... Vorrei che chi ha permesso di costruire questa azienda è responsabile di quello che sta accadendo perché non si concede un terreno gratis per far guadagnare i milioni a questi industriali che poi si approfittano del lavoratore per mandarlo a fanculo. Compagni dai campi e dalle officine prendete la falce, portate il martello scendiamo giù in piazza, vintiamo con quello scendiamo giù in piazza, appostiamo il sistema I perugini devono smettere di essere masochisti e devono iniziare ad alzare la testa ed incazzarsi Ecco, domani si incazzeranno perché non è possibile Anche con i bastoni se necessario Non è possibile Con i gente per bene che pace cercate Che pace per farne Non è possibile Ma se questo è il prezzo Vogliamo la guerra Vogliamo vederti Finché sotto terra Tordi con... Finché il fegato lo permetta A te piacciono i torni dottore? Alla fine decisione tragica Tordo intero A te, Lisa, i torni I passeri Neanche Gli uccelli Neanche E un po' più in giù Vole a volare L'usseli Dall'accomare E un po' più in giù Vole a volare L'usseli Dall'accomare Non è che non lo so Io mi dico così con Gio Ma il coniglio ti piace? Sì, ogni cosa Il coniglio mi piace Il coniglio Il coniglio E' il famoso coniglio Barsottiano Barsottiano Mi piace il coniglio E' il famoso coniglio Barsottiano E' un po' Eddi Hai un coniglio in tasca O sei contento di vedermi? Piantala con le battute Da l'ora E' il suo avuto Una giornata dura Allora, visto Mi piace il coniglio Sul coniglio Pubblicità 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 Ma se Questo è il prezzo Non abbiamo Cagato Nessuno più al mondo Deve essere Su Ma Se Questo è il prezzo